Nuova condanna per l'ex magnate del cinema Harvey Weinstein, il produttore, è stato condannato per stupre e aggressioni sessuali da un tribunale di Los Angeles nei confronti di una donna. Weinstein sta scontando 23 anni di carcere per una precedente condanna per reati sessuali combinata dal tribunale di New York. La cosa più importante è che sia stato condannato, questo è dovuto al coraggio delle vittime, di testimoniare, ha detto l'avvocata della vittima. La sentenza è arrivata al termine di un processo durato più di un mese, con oltre 40 testimoni e una camera di consiglio di due settimane, al termine della quale la giuria non ha raggiunto un verdetto unanime su tutti i capi d'accusa. Weinstein si è dichiarato non colpevole in entrambi i processi.